Ciao Teofilo! Ehi Calimero! Namo che ti accompagno al Luna Park! Boxe! A Calimero! Tu tiri di boxe? Io no! E tu? Io? Ero il campione del mondo! Ta-na-ta! Ta-na-ta! Ta-na-ta-ta! Se sei tanto bravo, perché hai smesso? Sono troppo forte! Nessuno vuole più battersi con me! 10.000 soldini di premio! Anche accetta di battersi con l'imbattuto campione del ring! Chi vuole provare? Forza! Accetta la sfida! Fali vedere che sei il campione del mondo! Beh, veramente! Sei il campione del mondo! Vogliamo vedere il campione del mondo! Bestia! Com'è grosso! Forza, cucina Teofilo! bravo filofilo mamma mia lasciali stavo questo è il mio cugino l'ha preso di sorpresa ma ora fagli vedere chi sei lo faccio vedere subito piccolo ma abbattere via piccolo sgorbio nero qui fanno sempre così perchè loro sono grandi e io sono piccolo e nero è un'ingiustizia però siamo alle solite calimero tu non sei nero sei solo sporco la lava come lava un perborato stabilizzato ava per lavatrici è diverso perchè ha il perborato ma è perborato stabilizzato ecco perchè ava per lavatrici lava più bianco ed ecco perchè anche dopo anni il tessuto tieni 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 l'ambiente cosa c'entra calimero è anche compagno di scuola di nostro figlio quindi facciamogli buona accoglienza eccoli che arrivano eccoli che arrivano ma non ragione, fuori di casa mia che non sa educare i figli, in quanto il trenino glielo tratterò domani dal suo ultimo stipendio. Ma papà veramente io? Ditto e vattene via che sei la mia rovina. Che maniere, qui fanno sempre così perché loro sono grandi, io sono piccolo e nero, è un'ingiustizia però. Siamo alle solite Calimero, tu non sei nero, sei solo sporco, là. E' un'ava come l'ava, un perborato stabilizzato. Ava per lavatrici è diverso perché ha il perborato, ma è perborato stabilizzato, ecco perché Ava per lavatrici lava più bianco ed ecco perché anche dopo anni il tessuto tiene. Tiene, perché il perborato di Ava per lavatrici è perborato sì, ma stabilizzato e nel fustino di Ava lavatrici cento punti del concorso Mira Lanza. Ma guarda chi c'è roba, mi hanno tassato per un milione. E adesso cosa fai? Andiamo all'ufficio delle tasse a reclamare. Devo mettere il mio guscio nuovo? Ma sei matto? In quel posto bisogna andare vestiti male, altrimenti credono che sei ricco. E' giù, con le tasse. Eccoci qua, aspettiamo il nostro turno. Eh no! Com'è il trucco di vestirsi male? Non attacca. Oh, io lo so. Più vestiti male sono e più sono ricchi. Avanti un altro. Papà, hai sentito? Quello non scherza. Presto, presto, andiamo a casa a cambiarci. Uffa, appena in tempo, eh? Tassato per dieci milioni. Avanti voi. Tutti così, eh? Vengono qui vestiti male perché vogliono pagare poche tasse. E besine! Vedo che voi non ricorrete a questi trucchi meschini. Cosa vuole? Siamo poveri ma onesti. E poi non siamo mica stupidi. Cosa dici? Abbiamo visto come lei tratta quelli vestiti male e allora siamo cosci a casa a cambiarci. Così lei ci fa pagare poche tasse. Ah! Allora volevate farmela anche voi? Ed io che vi credevo davvero onesti. Peggio per voi! Vi tasso non per uno, ma per due milioni. Fuori! Fuori! Dovrei legarti il becco, incosciente che non sei altro. Ah, che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però. Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Porco, là! È un'ava come l'ava! Un perborato stabilizzato! Ava per lavatrici è diverso perché ha il perborato, ma è perborato stabilizzato. Ecco perché Ava per lavatrici lava più bianco. Ed ecco perché anche dopo anni il tessuto tiene. Tiene. Perché il perborato di Ava per lavatrici è perborato sì, ma stabilizzato. E nel fustino di Ava lavatrici 100 punti del concorso Miralanza. E cavo proprio te, voglio parlarti di affari. Tu hai una bella vocina, io l'organetto. Se diventiamo soci guadagneremo un sacco di palanche, un sacco di soldi. Ah, che bello! Sì, accetto di essere il tuo sacco. Ho una lacrima sul viso, è una gran pena nel cuore. Vorrei tanto essere vicino, mamma, ma non posso tornare. Non ho mai capito che io ho nel cuore qualcosa che mi fa soffrire se nessuno mi vuole con te. È andata proprio bene, eh? Abbiamo guadagnato mille soldini. E la mia parte quant'è? Mille diviso due fanno 500 per uno. Evviva! Aspetta un momento. Ci sono le trattenute, eh? Le trattenute? Certo! Dalla tua parte bisogna detrarre. 200 soldini per l'ammortamento dell'organino. 200 per i diritti d'autore. 100 per il fondo pensioni. 100 per la casa malattie. 100 per in una casa. In totale fanno 700 soldini. Dunque, mi devi dare 200 soldini di resto. E io che credevo di poter portare a casa qualche soldino. Fa proprio un'ingiustizia, però. Vuoi forse mettere in dubbio la mia onestà? E allora non ti voglio più come socio. E vattene subito via! Piccolo sgorbio nero! Mmm, che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia, però. Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Lava, come lava! Con perborato stabilizzato! Ava per lavatrici è diverso perché ha il perborato, ma è perborato stabilizzato. Ecco perché Ava per lavatrici lava più bianco. Ed ecco perché anche dopo anni il tessuto tiene. Tiene! Perché il perborato di Ava per lavatrici è perborato sì, ma stabilizzato. E nel fustino di Ava lavatrici 100 punti del concorso Mira Lanza. Spinozio, affanatore di Maritini. E mogugnano, mogugnano. E lasciali mogugnare, zio. Tanto il mogugno è gratis. E dire che do loro la galletta tutti i giorni. E forse ho tirato fin troppo la corda. Sarà meglio tenerli in buona? Ma almeno fino a quando non avranno scaricato. Senti Calimero, che ne diresti di cantare una bella canzoncina per distrarre un po' quei meschinetti? Direi che ho un'ottima idea. Ma se che penso a l'uomo vedo mam. Vedo me monti a ciotta da nous siamo. Rivedo righi e messa strengzo che. Vedo a lanterna che avalas hume. Rivedo a feia e non illumina. Vedo la fuge e vento franzoma. Allora di me, su ancunde riturna. A posta io, se dove o me maduna. Il mio carico, le mie palanche, sono rovinato. E tu come hai fatto sbagliare rotta? Padron Giobatta, cantava così ben che mi son distratto. Ma allora è tutta colpa tua. Non farti più vedere, piccolo sgordio nero. In giustizia però. Siamo alle solite Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Lì. Lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito. Ma soprattutto è bucato garanzia. Perché ava protegge il tessuto e ne garantisce la conservazione. Bucato garanzia. Fate voi stesse la prova oggettiva, il contro luce. Lavato con ava il tessuto resta integro, intatto, come nuovo. Ava anche per la lavatrice. E attenzione, contengono le figurine del concorso Mira Lanza. Vattene via, piccolo sgordio nero. E va bene, me ne vado. Ciao ragazzi, ciao. Ehi, perché tremi tanto? Tremo perché ho tanta paura del compito in classe che dovremo fare. Ridi tu, ma io da aritmetica non ho mai capito niente. Attenti, problema. La vostra mamma va al mercato ed acquista 15 uova a lire 40 l'una. Quanto spende? Ed ora ascoltatemi. Il primo che sorprendo a copiare lo sbatto fuori come una ramazza. Capito? Sì. Bene, bene, bene. Qui si parla di uova e le uova sono al mio forte. Oh, mamma mia. Che facile. Su, su, scriviamo. Soluzione. La mia mamma non spende niente perché le uova non le comprerà. Se le fa, ecco fatto. Se le fa, ecco fatto. Oh, copione. Per te non è la stessa cosa. Hai mai visto la tua mamma fare le uova? Calimero, cosa fai? Volevo vedere cosa scriveva. Ah, tu allora volevi copiare, eh? Ma veramente io? Fuori ti dico. Signor maestro. Vattene via, piccolo sgarbio nero. Che maniere. Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però. Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Là. Eh, Ava! Come l'Ava! Sì, perché Ava è bucato garanzia. Garanzia di un bucato bianco e perfetto. Sì, Ava è davvero. Bucato garanzia. Garanzia di un corredo sempre nuovo. Ne volete la prova? Guardatelo contro luce. Lavato con Ava, il tessuto si mantiene integro, intatto, come l'uovo. Bucato garanzia. La stessa garanzia che vi dà Ava per lavatrici extra. Vedete? Il tessuto. Tiene. Sono prodotti che partecipano al grande concorso Miralanza. Oh, la penna che spruzza, la compro. Voglio fare uno scherzo a qualcuno. Ciao, Calimero. Lo sai che oggi è l'onomastico di Maestro Guffo? Tu, cosa gli regali? Io? Niente. Non ho neanche un soldino. Beh, ti aiuto io. Ti regalo una penna nuova che tu potrai donare al signor maestro. Oh, grazie. Niente, vuol dire che tu mi fai copiare il compito. Cari ragazzi, sono commosso. Grazie per i vostri gentili pensieri. E anche a te, Calimero. Avevo proprio bisogno di una penna nuova. La mia funziona così male. Beh, ora facciamo l'appello, eh. Aquiletti. È assente. Assente. Comodi, comodi, caro maestro. Voglio farle anch'io gli auguri donandole questo mio libro. Oh, signor direttore. Grazie. Posso chiederle di farmi la dedica? Certo. Con piacere. Oh, dunque. Che significa? Perbacco. È un'insolenza. Signor direttore, io non... È un mascalzone. Stia certo che la cosa non finisce qui. Calimero. Ma, veramente? Fuori, vattene via. Sei sospeso, piccolo sborbio nero. Che maniere. Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia, però. Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero. Sei solo sporco. Là. Lava come lava. Con perborato stabilizzato. Questo strumento scientifico serve per misurare il bianco di un tessuto. Fino a ieri ci si fermava qui. Oggi si è arrivati qui. Oggi, ava per lavatrici. Con perborato stabilizzato lava più bianco. Perborato sì, ma stabilizzato. Bucato più bianco sì, ma che anche dopo anni. Tiene. Nuovo ava per lavatrici. Toccare la macchina. Sì, papà. Ciao, Calimero. Come va? Bene, grazie. Uè, piccolo. Scatami una foto. Voglio celebrare la giornata perché ho fatto ottimi affari. Ma, veramente papà non vuole? Ma, come? Non sei tu il fotografo? Ma certo che è il fotografo. Ma? Ma sì, ti aiuterò io. Io metto la latra e tu devi solo schiacciare. E lei ti mette in posa. Così, più su. Mostri alto il viso. Guardi in macchina. Adesso puoi scattare. L'ho già fatto. Chissà cosa salterà fuori. Cosa ti devo? Cento lire. Ma non ho più il portafogli. Aiuto! Mi hanno derubato! Al ladro! Lei ha visto il ladro? Io? Le mie cento lire. Mezz'ora fa l'avevo. Guardia! Cosa c'è? Mi hanno rubato il portafogli. Dove avvenne il misfatto? Ma non so. Mi stavo facendo una foto. C'era anche il signore. Certamente. E se ci fosse stato anche lei il ladro avrebbe girato alla larga. Ma dal momento che lei ha preferito andassene a Zonzo, il fattaccio è accaduto. Signora guardia, chi mi dà le cento lire per la mia foto? Che foto? Ah, ma che bella posa! È uno sconcio! Fermo là! Quella cristantanea! Eccola il portafogli! Ora me le dà le cento lire? Cento lire? Ma per quella foto te ne do centomila! Bravo! Bravo sì, ma un po' sporchino, eh? Scusi, ha ragione. Ah, va come lava! Ma che libero dove vai? Corro in banca a portare la figurina da cento punti. Naturalmente abbiamo scherzato. Questa non è una banca vera. Però è vero che le figurine del concorso Miralanza hanno un valore. Un valore reale. E nel fustino di Ava Lavatrici c'è una figurina da cento punti. Ava Lavatrici lava più bianco e delicato perché ha il perborato stabilizzato. E vale di più perché ha in più la figurina da cento punti. E le figurine del concorso Miralanza valgono. Una storia che racconta come solo chi ha costanza ricchi doni vincerà. Infatti la costanza dà sempre buoni frutti. Mamma Chioccia sta impartendo una lezione teorico-pratica sui doveri delle galline. Oh, ricordati Gesso Minano e altre padovane dovemo covare così. Oh, covare con perseveranza e abnegazione. Povera mamma Chioccia, si è dimenticata di spiegare una cosa importantissima. Cosa si deve covare? Ma ad una gallinella come Gesso Minano dovrebbe riuscire facile a covare. Attenta, quello non è un uovo! Persimera! Persimera! Così l'aspirante Chioccia riprende il cammino. Ecco qualcosa che va per me. Beh, cosa le piglia quella vuol litigare? Oh, covare per credere! Oh, molto interessante! È senza spine poi! Non mi resta altra scelta, o mandare in buca la palla o la gallina. Sì, la vita riserva molte delusioni, lo sanno tutti, ma Gesso Minano francamente ne ha subite troppe. Non c'è più gioia né speranza in lei. È diventata una gallinella triste e pessimista. Perseveranza ci vuole! Cuma! Cosa sarà sta roba? Forse un sasso, forse qualche diabolico ordigno. Povera me, cosa succede? Che sia la volta buona! Coraggio, o la va o la spacca! Mamma, mamma bella! Già, bisogna proprio ammetterlo. La perseveranza dà sempre buoni frutti. Chi raccoglie con costanza figurine mi ralanza, ricchi premi in abbondanza, di sicuro vincerà. Asa è il prodotto più consigliabile per il normale bucato. Lip è il detersivo ideale per i pezzuti delicati. Basta il nome miralanza a indicare qualità. Miralanza! Da questo momento sono il vigile Gallettoni! E sappi, figlio mio, che il vigile Gallettoni non la perdona a nessuno! Ciao, Calimero! Ciao, mamma! Lei sta innappiando fuori orario! Pulta! Non si discute! Pulta! Fai il bravo, né? Allora, commendatore Paperazzi, si comincia a commettere le infrazioni di prima mattina, eh? Ma... Lei ha parcheggiato per 30 centimetri sulle strisce... Ma Gavettoni, 30 centimetri! Dai, è multato! Per 30 centimetri! Ma tu ti fai dare la multa da quell'addormentato lì! Rispetta i vigili! Non finisce qui! Scommetto che i figli dei vigili le multe non le prendono, anche se passano col rosso! Non è vero! Mio padre non la perdona nessuno! Vorrei vedere! Guarda! Calimero! Perché non hai rispettato il mio segnale? Allora, la multa? Mille lire di multa a mio figlio, perché ha attraversato col segnale di arresto! Ma ha anche provocato un ingorgo stradale! Sì, sì! È vero! Altre 50 mila per l'ingorgo! E per l'interruzione di servizio pubblico? Non lo trovo bene, bene! Fanno 100 mila! Hai visto che mi ha dato la multa? Stupido! Le tue multe devo pagarle io! Fattene via! Ah, che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi! Io sono piccolo e nero! È un'ingiustizia però! Sono le solite, Calimero! Tu non sei nero! Sei solo sporco! Là! Ava come profuma! Ma Calimero, hai sbagliato! Hai sempre detto, Ava come l'Ava! Ava come profuma! Sì, dice bene Calimero! Ava come profuma! Perché da oggi vi regala un profumo per la vostra biancheria! Con Ava bucato? Il tessuto tiene! Con Ava bucato? Mmm, bianco profumato! Sì, dice bene Calimero!